C'è preoccupazione nel mondo del commercio aretino per l'emergenza coronavirus, da una parte i negozianti che devono restare chiusi per rispettare le restrizioni decise dal governo, dall'altra la poca gente in giro che mette a repentaglio la situazione economica dei commercianti. Mario Checaglini, direttore di Confesercenti, nella trasmissione quotidiana, in diretta sulla pagina Facebook di Arezzo TV e poi la sera nella cronaca retina speciale, si fa portavoce di questo disagio chiedendo al governo interventi più stringenti e più incisivi rispetto a quelli varati nel cosiddetto decreto Cura Italia. La preoccupazione non è grande, è grandissima perché ormai sono quasi un mese che le attività sono chiuse, molti negozi, la grande maggioranza dei negozi sono chiusi e si capirà tutti bene che non potendo incassare è poi difficile poter pagare, far fronte agli affitti, far fronte a tutto ciò che un'attività richiede. E quindi la situazione è difficile, molto difficile, il decreto Cura Italia fa qualcosa del tutto insufficiente, aspettiamo il nuovo provvedimento perché siano date risposte concrete.